Sì, 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 parliamo di Gabriel Gamanni, un 2000, un ragazzo a cui io tengo in modo particolare perché ho notato subito in lui che ha caratteristiche importanti, è un bravissimo ragazzo, poi sta a giocare a calcio, c'è da lavorare su di lui, però secondo me è un giovane di prospettiva, molto molto interessante. Sì, magari qualche calo di concentrazione, però questo potrebbe essere anche una cosa naturale, capita, capita, non dovrebbe capitare, però spesso capita, specialmente quando sei in superità numerica, a noi c'è capitato spesso quest'anno, lì dobbiamo un pochettino migliorare. Oggi però a differenza delle altre volte abbiamo sofferto di meno, molto di meno, la squadra sta trovando, oggi ha fatto veramente una grande gara, non c'è nulla da dire. Grazie a tutti.